Una corsa podistica non competitiva, davvero originale. Stiamo parlando della Rainbow Young Run, l'evento sportivo organizzato nell'ambito del progetto Young Sport & Cultura Community del comune di San Martino Bonalbergo e presentato nei giorni scorsi nella sede della provincia di Verona. Una manifestazione caratterizzata da musica, allegria e tantissimi colori che si svolgerà sabato 27 maggio con partenza dal quartiere di Borgo della Vittoria alle ore 15. Gli iscritti, indossando una maglietta bianca, durante il percorso incontreranno le postazioni colore dove i volontari della Young Community provvederanno a cospargerli di polveri colorate composte al 100% da prodotti naturali e non nocive. L'idea nasce dal Festival Oli. È un festival indiano, propiziatorio perché per la religione indiana ovviamente è propiziatorio. A noi è piaciuto moltissimo perché i colori, perché i sorrisi, perché la natura e abbiamo voluto portarlo a San Martino Bonalbergo. Non solo veronesi, ma tantissime famiglie, giovani e meno giovani, provenienti anche da Milano, Pordenone, Brescia e Rovigo. Ci sono famiglie, ci sono ragazzi, ci sono anziani, bambini col passeggino, mamme in gravidanza, quindi è una bellissima festa per tutti quanti. I percorsi saranno due, da 4 e da 7 chilometri, un'occasione anche per far conoscere il territorio veronese. Anche per far conoscere per la provincia e anche fuori provincia il nostro territorio comunale nelle sue bellezze e anche nei suoi prodotti, perché comunque a maggio ricordiamo che le ciliegie, le fragole o altri prodotti sono in piena fioritura.